Allora andiamo a concludere il nostro discorso andando a vedere qual è la situazione dell'Italia nel XV secolo. Allora l'Italia nel 400 restava divisa tra cinque potenze principali come ci siamo detti, quindi Milano, Firenze, Venezia, lo stato della chiesa e il regno di Napoli. Nessuna di queste cinque potenze riuscirà a prevalere sulle altre e ogni qualvolta una di queste potenze regionali si troverà ad assumere una posizione di potenza, potrà essere in grado di prevalere sulle altre, le altre troveranno il modo di accordarsi per contrastare questa eventualità. E così per esempio possiamo vedere che tutta la prima parte del XV secolo è caratterizzata da una serie di conflitti. La parte più importante di questi conflitti è concentrata nel torno di anni che va dal 1434 al 1441. Allora possiamo dire che per esempio per quanto riguarda Milano alla morte di Filippo Maria Visconti alcune famiglie aristocratiche tentarono di abbattere il regime signorile e quindi istituirono la cosiddetta Repubblica Ambrosiana. Il progetto repubblicano si rivelerà un progetto utopistico perché ormai il sistema comunale milanese era entrato in crisi. E di fronte alla minaccia degli eserciti veneziani i milanesi chiesero l'intervento di un condottiero di Francesco Sforza. E costui aveva sposato una figlia di Filippo Maria Visconti e nonostante fosse un condottiero, un capitano di ventura, riuscì a cogliere l'occasione e nel 1450 si fece proclamare signore della Lombardia. Nel frattempo Venezia continuava a crescere militarmente e a condurre una serie di campagne militari molto soddisfacenti e questo fece sì che Firenze, che in un primo tempo si era alleata con Venezia contro Milano, a questo punto passò dalla parte di Milano. Scoppiò appunto una serie di, cioè più che scoppiò si ebbe una serie di conflitti dall'esito incerto fin quando non si giunse nel 1454 alla pace di Lodi. L'anno successivo, nel 1455, venne costituita la Lega Italica, a cui aderirono Venezia, Firenze, Napoli, Roma e diversi staterelli più piccoli. E gli aderenti si erano impegnati a mantenere l'equilibrio esistente e a combattere soprattutto qualsiasi tentativo di alterare tale equilibrio. In realtà a questo punto la situazione dell'Italia è una situazione che è caratterizzata da tre aspetti. Innanzitutto, quest'accordo fra gli stati italiani serviva a evitare che una potenza straniera trovasse pretesti per intervenire. È chiaro che il timore era che una volta finita la cosiddetta guerra dei cento anni, il timore, che poi si rivelerà fondato, era che la Francia potesse rivolgere le proprie attenzioni verso sud. Cosa che vedremo accadrà alla fine del secolo. L'equilibrio italiano era caratterizzato da una frammentazione politica preoccupante, cioè questa pace di Lodi in certo qual modo farà sì che nessuna delle cinque potenze sia in grado di sottomettere tutte le altre. E quindi fondamentalmente questa pace impedirà per diversi secoli l'unificazione italiana. Dobbiamo inoltre ricordare che all'interno dei diversi stati permaneva una situazione di contrasto fra le fazioni politiche. e quindi ogni singolo stato regionale viveva in una condizione di precarietà soprattutto a causa delle lotte interne. In questo senso sono emblematici due casi che potremmo citare, la congiura dei pazzi a Firenze e la congiura dei baroni a Napoli. Per quanto riguarda la congiura dei pazzi a Firenze, nel 1469 era signore della città Lorenzo dei Medici, colui che è passato alla storia come Lorenzo il Magnifico. Costui era il nipote di Cosimo e sappiamo che tra l'altro è una delle figure più rappresentative del Rinascimento italiano, protettore delle arti, lui stesso impegnato in prima persona in qualità di poeta. Nel 1478 la famiglia rivale della famiglia dei Medici, cioè la famiglia Pazzi, con l'appoggio di Papa Sisto IV della Rovere, tentò di attentare alla vita di esponenti della famiglia dei Medici. In realtà l'obiettivo era Lorenzo, ma rimase vittima della congiura il fratello Giuliano dei Medici, mentre Lorenzo riportò soltanto qualche ferita. La congiura voleva sobbillare il popolo contro il tiranno, ma in realtà al di là della presentazione dei fatti c'era soltanto un tentativo di avvicendamento al potere fra la famiglia dei Medici e la famiglia dei Pazzi. Per quanto riguarda invece la congiura dei baroni a Napoli, siamo nel 1485 e all'epoca era re di Napoli Ferrante e Ferrante stava lavorando a favorire l'affermazione delle autonomie comunali, non perché fosse un fervente repubblicano, ma perché riteneva che appoggiarsi ai comuni potesse essere un valido strumento per circoscrivere le prerogative della feudalità, quindi ridurre il potere dei baroni, della nobiltà feudale. Non si fece attendere la risposta della nobiltà feudale che appunto nel 1485 si ribellò al sovrano. I ribelli oltretutto avevano l'appoggio del Papa, che al tempo era Innocenzo VIII, che addirittura mandò un esercito in aiuto dei ribelli. Per impedire che la congiura avesse effetti sull'equilibrio italiano intervenne Lorenzo il Magnifico, che infatti sarà colui che sarà definito lago della bilancia, che minacciò di inviare delle truppe che impedissero l'arrivo delle truppe pontifice nel regno di Napoli. A questo punto quindi Ferrante, il re, avendo avuto la certezza che non sarebbe intervenuto l'esercito pontificio, potrebbe usare tutte le proprie forze contro i ribelli e potesse dare la rivolta. Questi due esempi sono utilissimi per comprendere qual era la situazione di precarietà in cui versavano gli stati regionali italiani. Vedremo che questa situazione di precarietà sarà l'origine della discesa dei re francesi in Italia e la discesa dei francesi dimostrerà repentinamente che l'Italia, che era la patria della cultura, era in realtà politicamente assai debole. Ma dedicheremo un altro video alle cosiddette guerre d'Italia.